Ramaglio, una presentazione nella quale lei ha espresso comunque entusiasmo e qui a Termo serve entusiasmo e la piazza aspetta risultati come lei ha potuto constatare. Sì, io credo che in un periodo così negativo ci sia bisogno di entusiasmo, di positività, perché la frustrazione e la tristezza aiuta a perdere la partita successiva, magari a perderla male. Quindi credo che la mia virginità rispetto a quanto è accaduto nella prima parte di questo campionato potrà aiutare la squadra ad avere la testa più leggera, la faccia più serena e un'energia che io spero di riuscire a trasmettere ai ragazzi. Poi è chiaro che ci sono altre componenti, la palla canessa è uno sport fatto di numeri, se non prendi rimbalzi perdi, se non tiri bene perdi, se non difendi perdi, questo dobbiamo ricordarcelo perché poi non basta l'entusiasmo e l'energia. Però ecco, in questo momento credo che il primo passo sia l'entusiasmo e l'energia, il resto deve venire di conseguenza. È chiaro che lei deve ancora sostenere il primo allenamento, però cosa pensa di questo roster con l'aggiunta di un giocatore tutto da scoprire, ma di cui si dice un gran bene a livello di talento come Crawford? E poi ecco, sull'aspetto della panchina che al momento non sembra avere grandissime risorse rispetto a un quintetto che potrebbe essere ora un po' più quadrato. Sai, è una squadra nuova perché è una squadra che ha Josh Davis al posto di Michael, sono due giocatori agli antipodi, è una squadra che avrà Joe Crawford al posto di Blake Ahern e sono due giocatori agli antipodi, quindi intanto dobbiamo capire quale potrà essere la migliore chimica perché questi giocatori possano giocare uno vicino all'altro e non uno sopra all'altro. Poi per quanto riguarda il discorso panchina, io mi auguro che Roberto Rullo capisca che questa è una bella occasione per lui, ma che non deve sentirsi sotto esame ogni volta che mette piede in campo. Deve giocare con la serenità, la sfacciataggine e la sfrontatezza che lo ha sempre contraddistinto, che l'energia di Achille Polonara sarà un patrimonio importante a cui questa squadra potrà attingere, che l'esperienza, la voglia, l'entusiasmo di Giorgio Boscagin sarà al solito un argomento importante perché la panchina possa darci un impatto importante. Poi se ci accorgeremo cammin facendo che ci sarà bisogno di qualcosa, la società si è mostrata disponibile.